Nell'ultimo anno sono stati diversi gli interventi fatti nei cimiteri dell'Aquila e frazioni e ce ne saranno ancora. Interventi mai fatti prima, secondo l'assessore all'ambiente che ha la delega ai servizi cimiteriali, Fabrizio Taranta, che assieme al sindaco Pierluigi Biondi e al vice sindaco Raffaele Daniele, ha tracciato un bilancio delle cose fatte da fare. 5 milioni di euro dal bilancio comunale subito, una somma importante, quella investita, ripartiti per le varie manutenzioni straordinarie e nuovi lavori nei cimiteri delle frazioni e di quello monumentale dell'Aquila. Partiranno gli ampliamenti dei cimiteri di Filetto e Santi di Preturo. Intorno ai 23 milioni di euro, però, la cifra complessiva per i cimiteri, spalmati nel tempo. Di tempo se ne è perso troppo, secondo il sindaco Biondi, anche a causa della burocrazia. Sono in consegna invece, alcuni già consegnati, i lavori per i locurali di Roio, Santa Rufina, Camarda e Paganica. Il comune, per la manutenzione dei cimiteri delle frazioni, ha fatto due accordi quadro di circa 300 mila euro. Sui cimiteri in questi anni c'è stato davvero un lavoro molto importante, complessivamente tra le manutenzioni straordinarie e la realizzazione dei nuovi loculari, il settore ambiente ha investito circa 5 milioni di euro. Sono state fatte sostanzialmente manutenzioni straordinarie su tutti i cimiteri delle frazioni, oltre ovviamente al cimitero dell'Aquila. Abbiamo in questi giorni consegnato i lavori per l'ampliamento del cimitero di Filetto, questione che era bloccata da anni e finalmente siamo riusciti a fare iniziare i lavori. Stiamo consegnando anche i lavori per i nuovi loculari a Santa Rufina, lo stiamo facendo a Paganica, a Camarda. Insomma, un lavoro importante di programmazione, oltre ovviamente alle manutenzioni ordinarie che vedono impegnato l'ufficio quotidianamente. Per quel che riguarda il cimitero dell'Aquila e le opere che sono in capo alla ricostruzione pubblica, il vice sindaco Raffaele Daniele ha spiegato che la sfida era quella di togliere l'ecomostro sulla collina del cimitero e sostituirlo con una struttura moderna e pensata per permettere anche a chi visita il cimitero di poter avere dei momenti di raccoglimento. Per quello si è pensato a un progetto con acqua e cascata che dialoga con il Parco della Memoria. Il finanziamento è già nelle casse del Comune, sia nella fase della progettazione definitiva. Un progetto lungo e complesso che ha visto la demolizione del complesso già esistente. Questo consentirà di fare trasferimenti e di occuparsi del complesso dei nove martiri e della parte monumentale. Anche l'edicola funeraria di San Giuseppe dei Minimi nella parte monumentale è quasi ultimata.